Una finanziaria da quaresima. E' questa una delle definizioni che l'opposizione di centrodestra, in particolare l'Udc, ha dato al documento finanziario da 7,4 miliardi di euro licenziato ieri dalla Commissione Consigliare Bilancio con i soli voti della maggioranza di centrosinistra. Secondo l'opposizione, invece, l'obiettivo del Consiglio regionale, quando esaminerà il documento, sarà quello di reperire quante più risorse disponibili da destinare agli investimenti e ai settori strategici dell'economia a sarda. E' questo, per esempio, l'auspicio del capogruppo regionale dell'Udc, Gianluigi Rubio. Si tratta di una manovra, evidenza il capogruppo centrista, inadeguata e inefficace a contrastare le emergenze economiche della Sardegna per uno sviluppo serio e duratura. Secondo l'Udc, è un programma economico da correggere sin dai lavori del Consiglio regionale, che riprenderà nel 15 marzo. La minoranza ha già fatto la sua parte, conclude Rubio, venendo incontro alle esigenze della Giunta per dotare la Regione di un impianto finanziario che possa invertire la rotta dalla Sardegna. E' necessario apportare al documento dei giusti correttivi, con investimenti in grado di incidere sul tessuto sociale e produttivo, con un piano di rilancio per i settori dell'industria, dell'ambiente e con le bonifiche dell'agricoltura e dell'artigianato.